7 agosto 2022 e il portale del leone è quasi aperto del tutto domani sarà il culmine del lion's gate un vero e proprio stargate dei leoni e naturalmente il tramonto è oro il colore oro dei leoni di sirio questo colore lo vedete puro spalmato oro liquido sul mare è il colore di questo portale ed è il colore che sta inondando la nostra terra ora e in questo momento di fronte a questo sole magico e a questo colore ci prepariamo all'apertura del grande portale regale dei leoni di sirio del leone della tribù di giuda e cosa dirvi in questi codici di luce che cosa c'è scritto qui nel mare con questa polvere d'oro che illumina a cui possiamo attingere bevendone alla fonte degli dèi come se fosse ambrosia bevendone e divenendo il calice cristico per eccellenza il gral il gral siamo noi che cosa c'è scritto qui ve lo leggo fratelli e sorelle c'è scritto che il leone della tribù di giuda sta per tornare ed è pronto per regnare il re dell'universo presto sarà qui in mezzo a noi e noi siamo carne viva cellule e membra del cristo oggi più che mai poniamoci a bere di quest'oro liquido direttamente alla fonte e diveniamo noi il sacro gral il gral siamo noi bevete alla fonte degli dèi vedete il leone della tribù di giuda disegnato in questo puro oro che scende dal cielo non so se i vostri occhi riusciranno a vedere ma qui c'è una lettura intera sul suo ritorno ma questa è un'altra storia per ora mettetevi in contemplazione davanti al portale dei leoni e chiedete al leone della tribù di giuda di venire a voi questa notte potreste sognarlo ricevere codici messaggi informazioni direttamente al vostro dna e alle vostre cellule siete pronti figli del sole siete pronti figli e figlie della luce siete pronti popolo tutto guerrieri della luce è il momento il leone sta per tornare e così sia e così è buon portale dei leoni a tutti buon portale del leone e così sia e così è amèn leggete anche voi il sacro verbo di fuoco impresso in questo oro è il dorato è già qui e giunge presto la nuova era l'età dorata e così sia e così è amèn